per favore niente sesso siamo minoici questo titolo molto fortunato di una conferenza che nicoletta momigliano ha tenuto nel 2013 parafrasa il titolo di una farsa teatrale molto nota scritta da foot e marriott e messa in scena per la prima volta nel 1971 in seguito riadattata per il teatro e per il cinema anche in italia il cui titolo originario per l'appunto era no sex please we are british ma è anche per noi l'occasione per mettere a nudo trasfiguratamente un piccolo ma persistente stereotipo che è quello della pacifismo minoico che si nutre a sua volta di un altro stereotipo opposto che è quello della belligeranza violenza sanguinarietà micenea in una dicotomia fra bene male bianco nero guerra e pace per l'appunto tutta giocata nel mondo egeo ma che anche la ragione della fortuna che questo topo storiografico ha avuto nella nella divulgazione e nella narrazione diciamo nella nostra idea comune che sia del mondo minoico di questa società palazziale la prima società palazziale mediterranea che si sviluppa al suo acme tra il 1700 e 1400 avanti cristo durante il periodo cosiddetto neopalazziale dei secondi palazzi ma uno stereotipo ha una radice no abbiamo imparato e questa radice spesso è la fraintendimento o la sovrainterpretazione di evidenze archeologiche e di documenti storici e in questo caso come sappiamo che nel mondo minoico non dal mondo minoico non abbiamo testimonianza di rappresentazioni erotiche legate all'amore e alla sessualità a differenza ad esempio del mondo mesopotamico qui abbiamo basti pensare le terracotte babilonesi con scene erotiche dell'età del bronzo medio non abbiamo neanche rappresentazione del potere in senso stretto raffigurazioni dell'élite e auto rappresentazioni dell'élite nei grandi cicli di affreschi e pitture parietali che decorano i palazzi e le residenze periferiche e le residenze anche al di fuori dell'isola di creta in aree direttamente minoicizzate quindi sotto influenza politica o culturale minoica il tema canonico e classico del potere che si auto rappresenta e assente non ci sono scene di battaglia vittoriose non ci sono scene di sottomissione di sovrani nemici non ci sono scene di sovrani di elite alla caccia di leoni selvaggi o altre scene di cui ovviamente abbia che abbiamo imparato a essere la base della rappresentazione del potere dal mondo assiro siamo agli ortostati dei grandi palazzi di nimrud ninive corzabad fino all'arte imperiale negli spazi del potere di epoca romana bene queste assente tutti i tentativi fatti sono tentativi tendenzialmente andati fallimentari un caso su tutti è quello del famoso principe dei gigli serie di frammenti di affresco ricomposti questo essere transgenico creato da ivans all'inizio del novecento raffigurante una giovine nobile abbigliato in modo molto ricco il quale era interpretato come il principe una figura d'elite del mondo minoico bene studi recenti chi fra gli studiosi si è occupato di pitture parietali ad esempio pietro militerlo maria show o ni maier ad esempio hanno dimostrato come il principe dei gigli stesso è l'oggetto della collazione indebita di frammenti di altre figure in cui il corpo del principe sarebbe quello originariamente di un boxer di un pugil della testa addirittura quella di una di una sfinge ma forse non è nella pittura parietale che dobbiamo cercare l'espressione del potere in questo è la diversità minoica ma un potere più soft e si esprime in un'altra dicotomia che evidentemente non è peace and love ma forse panem et circensis e dove si esprime questa classica dominio del potere sul popolo negli spazi dello svago e della diversione gli spazi teatrali legati strettamente al palazzo minoico in cui non avvenivano parate militari ma giochi sportivi come il salto sul toro ma erano non spazi liberi di espressione ma spazi di controllo che il potere aveva sulla popolazione e lo stesso avveniva attraverso altre strutture di controllo sul territorio come ad esempio le strutture le residenze periferiche che drenavano la ricchezza agricola del territorio per accumularla all'interno dei magazzini nell'ala occidentale dei palazzi questo questa ricchezza era gestita e redistribuita e quindi rappresentava un'espressione di dominio del potere sopra la popolazione quindi tutt'altro che un potere pacifico ma un potere che imponeva se stesso attraverso delle formule delle modalità delle strategie che non erano peace and love ma che erano panem et circensis e che comunque rappresentavano il potere Musica Musica Grazie a tutti.